in questi giorni sto riflettendo molto sul ruolo che noi diamo alla creatività umana perché come sapete su daily cogito in questa stagione abbiamo discusso spesso anche in virtù delle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale di cosa rende peculiare la creatività umana ovvero la capacità dell'essere umano di produrre arte opere tecnologie soluzioni storie narrazioni e mi accorgo sempre di più che c'è un tentativo di svalutazione della creatività che non so bene da cosa dipenda ma sicuramente dipende dal fatto che spesso intendiamo la creatività come mero intrattenimento come divertismo come riempitivo vogliamo farci intrattenere e in questo modo noi perdiamo per strada quella che secondo il mio umile parere è la peculiarità vera della creatività umana questo discorso mi è venuto in mente guardando downtown ebby che qualcuno dirà ma come downtown ebby in realtà lo sto apprezzando molto più di quanto immaginassi da anni ari mi diceva di volerlo vedere insieme a me abbiamo cominciato e devo dire che è una bellissima serie in cui mi sono accorto di una cosa che il fulcro della storia al netto del fatto che è divertente interessante che intrattiene certamente però il fulcro di questa storia è il tentativo da parte dei vari personaggi di trovare un significato di darsi un ruolo che non è quello da cui provengono ci sono queste nobile donne il cui ruolo essere nobile donne ma che non si accontentano di quel ruolo sono infelici in quel ruolo e quindi cercano attraverso l'innamoramento attraverso il soccorso la solidarietà l'arte la musica e via dicendo la politica l'impegno politico cercano di trovare una loro dimensione ed è una storia che mi sta piacendo perché io questo l'ho sentito molto nella mia vita ed ecco che mi è venuto in mente che cos'è la creatività umana perché la creatività non è semplicemente produrre una storia un'immagine una rappresentazione quello lo fa l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale se tu gli dai una serie di comandi produce un testo un'immagine un qualcosa che rappresenta una sorta di volontà antecedente quella di chi mette quei comandi oppure possiamo arrivare anche a dire che un giorno bard chat gpt o chissà cos'altro produrrà autonomamente un testo un'immagine una opera visiva che rappresenta qualche cosa ma la creatività non è soltanto rappresentazione questo lo si capisce quando non quando siamo tranquilli quando siamo sereni quando siamo in pace con noi stessi no di solito si scopre nel mezzo del subbuglio perché perché mi sembra che molto spesso ed è una cosa che facevo anch'io e ci mancherebbe noi derubrichiamo la creatività a mero intrattenimento solo quando non riusciamo a vedere cosa ricercare nella creatività quindi noi ascoltiamo una storia ascoltiamo musica andiamo in un museo d'arte e abbiamo questa esperienza estetica e diciamo bello o brutto e ci fermiamo lì poi accade qualcosa nella vita accade che uno perde il lavoro qualcuno vede il proprio amore finire oppure muore un caro un amico un familiare e la nostra vita finisce nel subbuglio nel caos finisce nella confusione finisce in una necessità di ridare ordine a qualcosa che pensavamo fermo e che invece si è rimesso in movimento che è appunto la nostra esistenza quando soffriamo quando viviamo un'esperienza caotica quando non abbiamo più appigli ecco che la creatività umana diventa qualcosa di diverso è in quel momento infatti che cominciamo a chiederci ma qualcuno ha già vissuto questa cosa prima di me qualcuno ha già provato queste emozioni questo subbuglio questa confusione e allora se prima da immaturi andavamo a leggere una poesia di pessoa dicendo bella questa poesia sì affascinante interessante questa poesia però questi orpelli stilistici magari potevano essere facciamo queste considerazioni molto superficiali a quel punto vissuta è un'esperienza molto gravosa della vita che ci chiama a ridare ordine ai nostri giorni ecco che prendiamo la poesia di pessoa e ci accorgiamo che questo individuo che a quel punto neanche più è un individuo ma è una sorta di manifestazione ha vissuto una cosa che interpretiamo come simile alla nostra e l'ha messa in una forma artistica che ci permette di vivere in modo diverso quell'esperienza che ci dà qualche impulso qualche ispirazione per ridare ordine a quello che stiamo vivendo perciò la creatività non è soltanto rappresentazione ma è spinta in avanti è slancio la creatività umana esiste per dalla parte dell'artista tenere traccia di quello che uno ha vissuto fornendolo poi a quelli che leggeranno ascolteranno vedranno e che ci piaccia o meno questo la tecnologia non riesce a farlo anzi dirò di più la tecnologia è essa stessa un tentativo dell'umanità di vivere esperienze in un modo diverso e noi ovviamente da immaturi esseri pensanti viviamo la tecnologia come semplice zona di comfort come diciamo così tentativo di renderci più comodo la vita ma in realtà anche quell'opera non è esattamente questo è il modo con cui una certa umanità mette in una forma fruibile i propri pensieri idee il proprio vissuto e allora ecco che la musica l'arte di picasso di kandinsky il film di jim jarmusch o di cronenberg oppure una serie come da un tonebby non è più una cosa che ti intrattiene questo inferno terribile il volersi fare intrattenere la distrazione universale no quella creatività diventa un modo per me di pormi quella domanda ma qualcuno ha già vissuto questa cosa persino di fronte alle nobildoni di down to nebby uno può chiedersi ma questa ricerca di significato questa ricerca di senso in che modo l'ho già vissuta io e perché l'autore o gli autori mi stanno raccontando il modo in cui loro hanno vissuto quella ricerca di senso ecco mi piacerebbe vedere di nuovo valorizzata l'arte la creatività in un mondo dove è sempre più svalutata non perché le tecnologie siano particolarmente avanzate lo sono ma non è per quello più che altro c'è una volontà di svilire la creatività un abbassamento della creatività al punto di convincerci che tutto sia come un film marvel come un film di mero intrattenimento qualcosa che ci fa trascorrere la vita il tempo che ci fa passare transitare passivamente nella vita invece la creatività è uno slancio in avanti è uno strumento per dare significato per dare senso questa cosa noi non possiamo farla con un chat gpt un lensa un bard perché perché nella fruizione dell'arte c'è bisogno per lo meno di intuire o indovinare che dietro all'opera c'è un vissuto anch'io ho vissuto quell'esperienza sto vivendo quell'esperienza che mi mostra picasso kandinsky becon anch'io sto cercando di dare ordine a quel tipo di esperienza interiore l'arte ci racconta la nostra interiorità in un modo diverso e non è semplice rielaborazione è uno slancio è un rischio è un entrare in contatto con delle corde profonde di noi stessi che magari ci aiutano anche a trovare un modo nuovo per dare significato ai nostri giorni alla nostra esperienza alla nostra emotività a quello che riteniamo di essere mi piacerebbe che tornassimo a raccontare l'arte con questa fascinazione e che smettessimo di svilirla a mera rielaborazione di dati perché per quanto ci piaccia considerarci meno rispetto a quello che siamo no l'essere umano non è mera rielaborazione di dati e credo che da un tonebbi questo lo racconti abbastanza bene